Siamo alla terza giornata della festa della primavera che si sta tenendo qui a Castelvetrano, accanto a me Roberto Guarino, presidente delle fattorie sociali Selinuntine, organizzatore appunto della festa. Allora, facciamo un sunto di queste tre giornate. Certo, certamente. Ti dirò, queste tre giornate sono andate bene, sia la prima che la seconda, dove i protagonisti principali sono stati i cralli, quindi i tour operatori con cui abbiamo iniziato questa discussione, abbiamo mandato avanti quella che è stata proprio la propaganda del nostro territorio, nonché delle otto strutture che vengono a far parte delle fattorie sociali Selinuntine. Non poteva certamente mancare quella che era l'ultima serata, dove davamo proprio ai cittadini quello che era un sunto, come ha detto Bene Tu, di tutta la manifestazione. Insomma, il sunto è positivo, i progetti sicuramente si realizzeranno, abbiamo la grinta che stiamo mostrando di avere e adesso proprio andremo a realizzare quello che è stato il nostro intento fin dall'inizio, mettere proprio in comunicazione le persone con quelli che sono i produttori. Siamo con Antonio Geretto, responsabile delle cantine sociali di Gastrovetrano che oggi stanno esponendo, qui con il proprio stand, i propri prodotti. Allora, come ritiene questa giornata, la festa della primavera? Allora, festa della primavera ben riuscita, ci ha accompagnato anche il tempo, bellissima, una bellissima giornata, manifestazione che ha avuto un risponso di pubblico, l'organizzazione ha dato i suoi frutti, perché abbiamo visto che chi aveva aderito è rimasto ben soddisfatto della giornata, poi ben vengano le iniziative che ci portano tutti insieme per il turismo. Siamo con la signora Gabriella Becchina, proprietaria del Palazzo Pignatelli, oggi pure con una bella esposizione di olio. Allora, cosa ne pensi di queste tre giornate, soprattutto di quella odierna? Io penso che siano di un valore assolutamente unico, sono anni che il territorio aspetta un'iniziativa di questo genere, mi sembra valido, è un buon inizio, segno di crescita e di possibilità future, qualsiasi cosa che può sembrare essere stata un'imperfezione non lo è, è tutto un inizio e augura bene. Anche una mostra di pittura alla festa della primavera, Cantamella è responsabile, li ha Calamia, chi dietro di noi è anche uno dei suoi quadri? Questa mostra ha ingentilito una manifestazione che ha presentato a 360 gradi di tutto, dall'artigianato alla degustazione, alla promozione turistica, non poteva mancare l'arte. È un momento di riflessione bella in questa chiesa che ha riaperto e che è un'occasione per fruire anche questo locale per altre manifestazioni successive. Penso che queste iniziative siano veramente lodevoli, ci si deve muovere e ci si deve dare spazio a tutte le intelligenze, a tutte le capacità locali, è questa l'unica strada, perché il mare e il sole lo trovano in Tunisia, lo trovano altrove, la cultura è un valore aggiunto, che è un richiamo forte e importante. Grazie 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 Grazie